Sì, non metto ancora i vocali, però sciudiamo il pomeriggio. Sì, non metto solo. 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 No metto solo. No metto solo. Sì, non metto solo. Sì, non metto solo. No 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 metto solo. Ciao ragazzi, non ci vediamo da tanto tempo sul canale, sono passati circa due mesi spero che questo video vi sia piaciuto, volevo dirvi un paio di cose ho il cappello scusate ma i miei capelli sono veramente inguardabili questo video volevo farlo da tantissimo tempo, ne avevo fatto già uno simile durante il Life Therapy Day un paio di anni fa e poi avevo visto lo speciale di Gabbo di circa 2-3 anni fa che mi era molto piaciuto, infatti l'invito di andarlo a vedere io ho cercato di farlo alla mia maniera vi ho mostrato quella che potrebbe essere una mia giornata tipo, mancano ovviamente tantissime attività quali gli eventi, i viaggi, il fatto di spostarsi tra Milano e Napoli anche per gestire alcune cose lavorative che sono giù purtroppo bisogna fare su e giù che poi non è mai un purtroppo perché tornare a casa mia mi fa sempre piacere come molti di voi non mi seguono sugli altri social, vi invito a seguirmi su Instagram così potete capire quali sono i periodi in cui magari non escono video per vari motivi ci sono stati dei problemi di salute che sono tornati e ormai ci ho fatto l'abitudine e anche dei problemi personali che mi hanno portato a non fare video questo non vuol dire non lavorare a quello che è poi il progetto Mates o quello che sia il progetto YouTube in generale infatti sono contentissimo di essere riuscito a luglio per quanto ci fossero stati tantissimi problemi a fare live di 48 ore che ancora oggi pur non è presente sul canale per dei problemi di YouTube che spero risolvano al più presto e sono contentissimo di aver organizzato settembre nel migliore dei modi quindi sono tornato con i video, partiamo domani per il Giappone è iniziato anche il progetto Social Dream che è un progetto molto molto interessante ci saranno degli altri video quindi comunque sono tornato attivo la più grande soddisfazione è riuscire a fare quello che mi piace ogni giorno mi sveglio la mattina e arrivo a fine giornata dormendo poco e niente ma lavorando tanto per chi mi piace quello che faccio grazie a voi la mattina mi sveglio con degli obiettivi e quando li raggiungo ottengo delle grandi soddisfazioni in questo video avete visto dei momenti di registrazione video dei momenti di casa, dei momenti quindi personali, dei momenti anche di lavoro quando è stato fatto lo shooting, era il nostro primo shooting come Mates vedere indossato da un modello, un capo Mates che dopo tre anni è riuscito a diventare quello che è mi ha dato grandissime emozioni io penso di essermi dilungato pure troppo il video è stato veramente difficile da editare adesso faccio la copertina, lo carico e me ne vado a leggere vado a riposare un paio d'ore magari nei commenti scrivetemi qualche domanda, qualcosa che vi interessa veramente quando scrivete un commento cercate di farlo con cognizione di causa perdeteci ma anche magari due minuti per richiedere qualcosa che magari potrebbe interessarvi veramente niente, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video ciao scusate per il passavoce ma sono le 6 di mattina quasi